Dopo Sanremo, per quello che riguarda Tempo Reale, ci sono due concerti, gli unici due in questo momento, a maggio, il 19 al Teatro dell'Arce in Boglia, a Milano, il 19 maggio e il 21 maggio invece a Roma, al Parco Auditorio della Musica. Ci sono due concerti in cui racconterò e presenterò l'album e dopodiché ho altre cose da fare mai in Sud America. Mi sono divertito moltissimo e credo che sia stato un festival ben costruito, ben pensato, ben poggiato su quello che in questo momento è appunto il tessuto sociale di questo paese e qualsiasi altro modo di interpretare il festival in un momento difficile, critico, a tratti disperati sarebbe stato sbagliato e quindi sono contento e faccio un applauso a Fazio per come è riuscito a casellare un momento utile, di divertimento invece in un periodo così difficile per la gente e per il paese.